Benvenuti nel video dedicato alle tasche applicate sui bordi create con il configuratore presente in TTCAD L3. Per tasche applicate si intende una tasca come questa che si vede viola appoggiata sopra la parte, in questo caso il pantalone. Come esempio per creare questa tasca prendo un pantalone, il base, vado a cliccare su crea nuovo progetto per il sottotipo selezionato. Mi si apre questa finestrella che mi chiede vuoi usare la creazione guidata per questo nuovo progetto del sottotipo selezionato? Clicco sul sì. Mi porta all'interno del configuratore presente in TTCAD L3. La pagina che mi trovo di fronte è la pagina misure. Questo video è dedicato alla costruzione della tasca applicata. La tasca applicata la costruisco cliccando su questa iconcina dove c'è scritto tasca su bordi del davanti. Io vado a costruirla sul davanti, potrei fare la stessa identica cosa sui bordi del dietro. Clicco sull'icconcina, mi porta all'interno della pagina che mi dà la possibilità di creare questa tasca. Alla mia destra trovo il pantalone del davanti su cui la voglio costruire. Qui in alto, posizione su linea a fianco. Ho la possibilità di andare a costruire questa tasca. Entriamo e vi faccio vedere posizionandola sulla linea della vita, posizionandola linea vita e fianco e posizionandola sulla linea del fianco. Ne vediamo una alla volta. Però prima voglio farvi vedere quest'altra cosa. Tipo di tasca. Tasca tagliata su bordi. Vi ricordo che c'è un video tutorial dedicato alla tasca tagliata su bordi, che è come quella alla francese o in diagonale, oppure quella classica dei jeans. Per quella applicata devo cliccare sulla freccettina e ho quest'opzione. Tasca tagliata esterna su bordi. Vado a selezionare. Poi vado anche a selezionare applica tasca davanti. Clicco. Andiamo a vederne adesso una alla volta. Posizione su linea vita. Vuol dire che la tasca che ho applicato esterna me la costruisce con l'apertura, qui dove viene inserita la mano, che è sulla vita. Vita a fianco. L'inserimento della mano viene effettuata qui e ho il taglio che parte dalla vita e arriva sul fianco. Posizionata su linea fianco, ve lo faccio vedere con questo modello che si vede di più. Il taglio è posizionato sul fianco. Qui c'è l'ingresso della mano. Vediamo quella più classica, posizionata su linea vita e fianco. Questo riquadro a sinistra mi dà la possibilità di impostare il taglio della tasca. Il taglio della tasca è questa forma. Questa forma che io vedo qui è questa. Cliccando sull'icconcina mi si aprono queste varie possibilità. Questi sono tutti i tagli che posso utilizzare. Io utilizzo questo. Faccio doppio clic e qui mi compare il taglio. Poi in questo riquadro ho la possibilità di impostare il sacchetto tasca, che è questo. Vado a selezionare. Ci sono tutte queste possibilità. Io utilizzo il sacchetto di tipo 3. Faccio doppio clic ed ecco qua che ho ottenuto il sacchetto e il taglio. Con questi bottoni al di sotto posso spostare i punti del taglio. E precisamente il punto T1, che è questo, e il punto T2, che è questo. Prima di spostarli vado ad abilitare mostra quote tasche. Così mi vengono mostrati i centimetri di cui è composta questa tasca. In questo caso mi dice che dal punto T1 al punto del fianco, che sarebbe la lettera B, ho 8 centimetri. Se io desidero cambiare questa misura, vado a cliccare sul più, se voglio spostare il punto verso destra, quindi in senso orario. E sul meno, se lo voglio spostare verso sinistra, quindi in senso anti-orario. Se clicco sul più, si sposta di mezzo centimetro, sul più doppio. Se clicco sul più singolo, si sposta di un millimetro. Facciamolo più grande. La stessa cosa per il punto T2. Se lo voglio spostare verso il basso, sto andando in senso orario, quindi clicco sul doppio più. Se lo voglio spostare verso l'alto, quindi in senso anti-orario, con il meno. La stessa identica cosa per spostare i punti del sacchetto tasca. Ho il punto S1, che è questo, e il punto S2, che è questo. Se voglio spostare l'S2 verso il basso, clicco sul più. E oltre all'S2 mi sposta tutta la tasca. L'S1 lo sposto verso sinistra, quindi utilizzo il mini. Per quanto riguarda la larghezza e la profondità dei punti, se io clicco sulla larghezza, mi modifica solo questa parte. Se clicco sulla profondità, mi sposta questa parte. Quindi ho anche così la possibilità di andare a modificare un pochino la tasca, come desidero. La stessa cosa per la larghezza e la profondità del sacchetto tasca. Se clicco sulla larghezza, mi sposta questa parte. Sulla profondità, mi sposta questa parte. Posso anche, utilizzando Personalizza Tasca, modo avanzato, cliccando, mi porta all'interno della pagina che mi dà la possibilità di modificare completamente la tasca. Vi ricordo che c'è un video tutorial dedicato a questa pagina, perché potrei andare a modificare ogni linea ed ogni curva di cui è composta questa tasca. Chiudiamo. Vado in Crea progetto. E vedo il mio pantalone del davanti e la mia tasca che ho creato, che poi verrà applicata. Spero di esservi stata utile. Ai prossimi video. Ciao ciao!